Il fattore determinante per l'acquisto di prodotti di alta qualità è che il loro funzionamento sia il più possibile silenzioso. Per questo, noti fabbricanti consigliano Comper Flaudin Aver. Un flusso d'aria ottimale all'interno di tutto il sistema di aspirazione è decisivo per l'efficienza della cappa. Grazie ad una tecnologia di deviatori unica nel suo genere, Comper Flaudin Aver offre vantaggi significativi rispetto ai sistemi convenzionali, soprattutto in corrispondenza delle curve delle cassette a muro. Solo il massimo flusso in volume con la minima perdita di pressione nel sistema di scarito complessivo garantiscono una prestazione ottimale l'ottenimento dei dati indicati dal produttore. Simulazioni al computer della portata volumetrica hanno evidenziato in particolare nella zona delle curve e dei raccordi forti turbulenze, responsabile delle notevoli perdite di pressione dei rumori. La tecnologia Comper Flaudin Aver ha risolto il problema in modo efficiente. Con l'ausilio di deviatori all'interno delle parti del sistema, il flusso d'aria viene condotto in maniera controllata, evitando fastidiose turbulenze e riducendo le perdite di pressione fino al 40%. L'aria viene convogliata in modo uniforme attraverso l'intera sezione del tubo. Il risultato è una portata volumetrica ottimale a fronte di un livello di rumorosità significativamente ridotto. In questo modo la cappa aspirante può funzionare in modo più efficace, più silenzioso e anche con un maggior risparmio di energia. La panoramica dei sistemi di canalizzazione utilizzati nell'esperimento evidenzia l'efficienza della tecnologia di Aver. Lo stesso sistema Comper Flaudin Aver da 125 mm genera una riduzione della perdita di pressione rispetto al sistema di canalizzazione a tubi circolari con un diametro da 150 mm. I vantaggi del sistema di canalizzazione a tubi piatti Comper Flaudin Aver vengono potenziati grazie a una tecnologia intelligente di cassette e muro, che definiscono nuovi standard nel settore Comper Flaudstar. Durante il funzionamento della cappa aspirante, la pressione del flusso d'aria provoca l'apertura automatica del coperchio di scarico. Un cono di flusso installato alla fine della cassetta a muro espelle l'aria di scarico con movimento circolare quasi senza rumore, collocandosi a un livello notevolmente superiore rispetto ai sistemi tradizionali. Dei magneti permanenti chiudono l'apertura nel muro mediante una guarnizione ad anello, impedendo la penetrazione di pioggia e sporco. Una pressione di apertura superiore a 60 pascal impedisce uno scambio d'aria indesiderato quando la cappa è spenta. La cassetta a muro Comper Flaudstar di Naber soddisfa pertanto i severi requisiti di tenuta d'aria del decreto tedesco sul risparmio energetico negli edifici. Ottenimento della certificazione Blauador dimostra che questo sistema è perfetto per l'impiego in case a basso consumo energetico e case passive. All'esterno la copertura rotonda in acciaio inox, già vincitrice del premio di design Red Dot, conferisce al muro dell'abitazione un carattere peculiare. Contrariamente alle coperture in plastica che si rovinano rapidamente a causa degli agenti atmosferici, l'acciaio inox spazzolato di alta qualità mantiene inalterata la propria estetica a lungo.